Un 38enne originario di Messina, Gcile, su iniziali condannato per reati di mafia, chiama il 112, si consegna ai militari della pattuglia. È accaduto nella notte a Sulmona. Il militare di turno della centrale operativa riceve un'insolita telefonata dall'altra parte un uomo che dice di essere stato condannato in via definitiva che per questo dovrà scontare carcere. La pattuglia lo raggiunge sul posto dopo l'esatta identificazione. Stabilisce con certezza che sul 38enne di origini siciliane pende un provvedimento di esecuzione della pena a otto anni di reclusione per i fatti di mafia accaduti in Sicilia tra gli anni 2012 e 2019. Un anno lo ha già scontato in precedenza ma la pena residua deve essere scontata in carcere. Per questo l'uomo è stato arrestato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sulmona. I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno quindi informato immediatamente al tribunale di Messina che aveva emesso l'ordine di carcerazione da quando si è appreso l'uomo non ha alcun legame con la città ovidiana. Per questo ha macinato chilometri per arrivare nel capologo Peligno dove insiste carcere di massima sicurezza e farsi arrestare. Lì ha detto alle guardie si era già trovato bene. È facile però che la struttura di massima sicurezza serva al recluso per andare avanti con altri contatti.